A GENOLE! A GENOLE! Eh, sono qua, sono qua, Pellegrina, ma tu una cosa gridi, ma si grida sempre qua perché? Devo gridare perché sei sciolto come una campana rotta voi da qua e voi grido perché non ci vuoi se ci sei, sei sempre in giro Eh, ma pure se non ci sono, se tu gridi io... Oh, guarda, eh, almeno fino a Cagliera, cioè Mauro Vicenti, non ti preoccupare, eh Eh, in ogni modo... Eh! Eh! No, dico, in ogni modo! Eh, che cosa? Ma come che cosa? Ma che sei l'infreddito del tutto? Ma cominci le franche non le finisci? Ma mi guarda che se dovevo finire a fare la badanza un po' lento! Vabbè, comunque, perché che cosa vuoi? In ogni modo! Eh! Hai prenotato un ristorante con un uovo, una macchina, un sacciotto, un sacciotto! Ma, 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 ma la cosa vuoi dire? Eh, ma ci vuole andare proprio! Oh, ma si capisce! Ci sono andate tutte le mie amici dell'università popolare, quelle vecchie, vecchie, valedecche! E non ce le devo andare io, eh! Che cosa sono io, la figlia della serva? Oh! 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 Mi misera! Mi capina! Me lo diceva la bambina di non sposarmi! Che mi avresti fatto fare la palla con una poveranza! Ma no, ma non è quello! Che vuoi la palla faccio io, eh! Perché tu mani si fose un bubber! Ma guarda, questo pangione che sempre non vuoi la volevate! Uffa! Uffa! No, ma, voglio dire, voglio dire se ci vuoi andare davvero! Perché lì io ho sentito che fanno, non so, tipo la Mufet Pugine, ste robe qua! Eh, certo, certo! L'importante è che ti ingorci, eh! Se non ti ingorci come un picco, come un treppo, come un treppo totano, non sei soddisfatto! No! Oppure non puoi venire perché hai un altro impegno! Eh! 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 Perché animali ci sono? Eh! 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 Ma comunque che impegno, che impegno! Ma se lavoro tutto il giorno a volte devo fare anche la notte! Oh! Lo dici tu che la voglio a te, eh! Secondo me, fai nei locali equivoci! E qui? Sì, sì, tutti e due! Locali equivoci e equivoci! Tre! Fai la faccia di ballerine! Ma che ballerine? Ma alla mia età, secondo te? Oh! Ma guarda che non è il maiale diventare vecchio, ma il vecchio diventare vecchio! E poi il luogo perde il peo, ma non è il tizio! Ma che tizio? Eh! Ne lo sono sempre in testa mio! Ma io sto provando, io proprio non lo voglio capire! Oh! Poi il prenotare vuole andarci stasera, eh! E basta!